Oh sole, oh sole mio, stai in fronte a te, stai in fronte a te. Pablo, come stai Pablo? Sei bene e tu? Sei un bugiardo? Eh, sono un bugiardone. Sì, bene il tuo bugiardo. Sto cercando la fatta. Eh, lo saluto, no? Oh, non c'è, non c'è. Oh, non c'è. Oh, non c'è. certo sei contento di tutta questa gente tutta colpa tua tutti quei bicchieri di prosecco bravo luca bravo sei il migliore grazie Grazie. 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 Non mi avete avvisato? Non lo so. E lei chi è? Non è messa. 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 Ma non è messa. Ma ho capito che l'asento fuori spagnolo, dell'America Latina. Ciao. Buongiorno. Come ti chiamo? Fabian? Buongiorno. Mi chiamo Fabian. In Facebook sono Fabian Cordoba. Ok. Eri qui? Venecia. Per la prescrizione di Murano, dove c'è il vetro? Ah. Aspetta, no, no, ok. Hola Fabian. Per lo che ho capito, tu sei da qui di Venezia e parla molto spagnolo. Quindi, questo è per un diario dell'America Latina che si chiama ABC Mundial. e è un diario che si diffonde principalmente nell'area della lingua spagnola. Quindi voglio che tu mi racconti qualcosa del Carnaval di Venezia. Che significa per i veneciani il Carnaval di Venezia? È un evento dove molta gente di tutto il mondo viene qui per vedere come è. e anche, non tutte, perché molti di questi sono molto costosi. E... 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 Vedi il bastone così? Ecco, è, dai. E... 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 Ok, grazie. Oh! Eh... E' di si! E... Bello! Come si chiama? Romeo? Wow! No, no, no.